Le videoguide di Intesa San Paolo Con questa videoguida scopriamo la carta di credito Oro Exclusive. Il prodotto ideale per soddisfare le tue esigenze grazie ai vantaggi esclusivi offerti dal servizio di Personal Assistant e dal servizio di protezione ed identità da utilizzi fraudolenti. Con carta Oro Exclusive hai a disposizione il Personal Assistant, un esperto dedicato che si prende cura di ogni tua necessità sempre e ovunque. Un punto di riferimento in caso di prenotazione viaggi, auto o noleggio, acquisto e consegne all'indirizzo da te indicato di regali, fiori e altri oggetti da te scelti, acquisto di biglietti per alcuni eventi come concerti, manifestazioni sportive e molto altro. Carta Oro Exclusive è la prima carta in Italia con ID Taft, l'innovativo sistema di protezione ed identità da utilizzi fraudolenti che ti notifica eventuali illeciti nell'utilizzo dei tuoi dati personali, numero di carta di credito, IBAN, numero passaporto, codice fiscale, ecc. E mette a disposizione un team di professionisti che ti assistono per ripristinare possibili criticità. Potrai scegliere e inserire i dati che intendi monitorare attraverso l'apposita procedura a cui puoi accedere direttamente dal sito della tua banca. Il sistema, grazie al presidio 24 ore, 7 giorni su 7, è in grado di allertarti istantaneamente se le informazioni personali rischiano di essere condivise illegalmente e di fornirti istruzioni ed assistenza operativa con specialisti certificati. Il servizio inoltre ti rimborsa e ti indennizza per alcune spese legate all'attività di ripristino della propria identità come, ad esempio, i costi di difesa legale e mancato stipendio. Potrai scegliere il circuito di appoggio della tua carta oro exclusive, usufruendo così dei vantaggi del programma internazionale Mastercard Priceless Cities se scegli il circuito Mastercard, oppure di Luxary Hotel se scegli il circuito Visa. Con la tua carta hai anche a disposizione molte funzioni, tra cui la modalità Contactless, per effettuare pagamenti semplicemente avvicinando la carta al post abilitato senza bisogno di inserirla nel lettore. E per gli acquisti fino a 25 euro non dovrai nemmeno firmare la ricevuta di spesa o digitare il codice PIN. Cosa aspetti? Puoi acquistare la carta in filiale o se sei titolare dei servizi via internet, cellulare e telefono, comodamente anche da casa dal tuo internet banking o tramite l'app La Tua Banca. Potrai ricevere la carta in filiale oppure direttamente all'indirizzo da te indicato e avrai la possibilità di concordare con il corriere il cambio del giorno e dell'indirizzo che hai segnalato. Guarda anche gli altri video. Le video guide di Intesa San Paolo Con questa video guida scopriamo la carta di credito Oro Exclusive. Il prodotto ideale per soddisfare le tue esigenze grazie ai vantaggi esclusivi offerti dal servizio di Personal Assistant e dal servizio di protezione ed identità da utilizzi fraudolenti. Con carta Oro Exclusive hai a disposizione il Personal Assistant, un esperto dedicato che si prende cura di un che ti notifica eventuali illeciti nell'utilizzo dei tuoi dati personali, numero di carta di credito, IBAN, numero passaporto, codice fiscale, eccetera. E mette a disposizione un team di professionisti che ti assistono per ripristinare possibili criticità. Potrai scegliere e inserire i dati che intendi monitorare attraverso l'apposita procedura a cui puoi accedere direttamente dal sito della tua banca. Il sistema, grazie al presidio 24 ore, 7 giorni su 7, è in grado di allertarti istantaneamente se le informazioni personali rischiano di essere condivise illegalmente e di fornirti istruzioni ed assistenza operativa con specialisti certificati. Il servizio inoltre ti rimborsa e ti indennizza per alcune spese legate all'attività di ripristino della propria identità, come ad esempio i costi di difesa legale e mancato stipendio. Potrai scegliere il circuito di appoggio della tua carta Oro Exclusive, usufruendo così dei vantaggi del programma internazionale Mastercard Priceless Cities se scegli il circuito Mastercard, oppure di Luxary Hotel se scegli il circuito Visa. Con la tua carta, hai anche a disposizione molte funzioni, tra cui la modalità Contactless, per effettuare pagamenti semplicemente avvicinando la carta al post abilitato, senza bisogno di inserirla nelle tue necessità sempre e ovunque. Un punto di riferimento in caso di prenotazione viaggi, auto o noleggio, acquisto e consegne all'indirizzo da te indicato di regali, fiori e altri oggetti da te scelti, acquisto di biglietti per alcuni eventi come concerti, manifestazioni sportive e molto altro. Carta Oro Exclusive è la prima carta in Italia con ID Taft, l'innovativo sistema di protezione ed identità da utilizzi fraudolenti.